Il titolo di questo workshop è osservare la realtà, raccontare il cambiamento. Ci pensate quanto di più banale, osservare la realtà, raccontare il cambiamento, è giornalismo questo, eppure oggi diventa sovversivo, sovversivo nel senso che rovescia la realtà. Per fare un buon lavoro di reportage la regola numero uno è, ad esempio, perdere più tempo possibile, vivere delle esperienze, condividere del tempo, dei luoghi, prestare a volte più attenzione ai dettagli che non alla notizia in sé, saper contestualizzare le cose, saperle raccontare. Io lavoro con la penna e con il taccuino, spesso, anzi a me trovate le volte, non mi porto dietro neanche il registratore. Non solo, il taccuino ti permette anche in alcuni posti dove tu viaggi, ti permette anche di arrivarci, perché non è che tutto il mondo è per il fatto di posti dove esiste libertà d'espressione. Un conto è l'Italia, un conto è, ad esempio, la Tunisia. Il punto di vista è fondamentale, non esiste l'imparzialità, non esiste l'oggettività, non esiste. Esiste forse nei numeri, esistono le statistiche, ma anche lì bisognerebbe ragionarci. Sicuramente c'è un racconto, parte dal punto di vista, un reportage, un racconto, questo penso che vaga anche per le foto, per i video, insomma, si tratta di scegliere un punto di vista, di essere consapevoli di avere un punto di vista. Lo dico proprio dal punto di vista narrativo, non parlo adesso di politica, poi in realtà è anche una scelta politica in qualche modo, ma innanzitutto dal punto di vista narrativo, cioè tu racconti una cosa e devi essere consapevole di quale punto di vista stai assumendo. Rosarno, ad esempio. Io Rosarno l'ho raccontato da due punti di vista. Il primo punto di vista è quello della Calabria, cioè andando giù nel gennaio del 2009, quindi l'anno scorso, prima che succedessero i pasticci di quest'anno, anche se già l'anno scorso si sparava da sola gente, e ho fatto un reportage da lì, quindi seguendo i braccianti, andando all'alba la mattina sulle strade a vedere come funzionava il caporalato, andando nelle baracche dove vivono, mangiando con loro, facendomi raccontare le storie, parlando con i rosarnesi, parlando con i vecchi rosarnesi che erano i figli dei contadini calabresi che hanno fatto le lotte per l'occupazione delle terre, anche qui la memoria è di nuovo un elemento fondamentale per dare una prospettiva. E quindi ho fatto tutto quanto un lavoro sullo sfruttamento del lavoro, dove appunto il bracciante africano lì era comunque la vittima del sistema, da quello che si vedeva lì. Poi per puro caso, perché spesso le cose nascono per puro caso, mi sono trovato in Burkina Faso, due mesi dopo, nel marzo del 2009, ero andato lì per tutt'altro motivo, per seguire il festival del cinema africano a cui era invitato uno sulla terra, e arrivo all'aeroporto, scendo all'aeroporto c'erano questi dello staff del festival, mentre si fanno chiacchiere con questi dello staff, mi sono fatti lì due e sei, mi sono scese, dico no italiano, ah italiano, non ce l'ho vedere, ma che c'è? No in Italia, sapete, una bella verdura, due pomodori, insomma c'è una bella roba in Italia, questo è pazzo, tutte le belle, il Colosseo, tutte le cose belle, anche la pizza, il mandorino, la mafia, i pomodori, vabbè, non ci faccio neanche attenzione di quelli, e questo poi insiste, ci dicono, no, e poi pure delle arance, so che c'erano delle arance, tra le migliori, la cosa mi cominciava a incovesire, e poi appunto scambiando una parola così, con un personaggio spuntato dal niente, viene fuori, e questo c'erano dei cugini che stavano a Rosarno a cogliere le arance, poi andavano a Foggia a cogliere i pomodori, ed erano quindi braccianti del sud, solo che lui ne parlava come degli eroi nazionali, cioè diceva, questi stanno facendo un sacco di cose, ci sono dei interi paesi da dove sono partiti, costruiscono le case, costruiscono dei bel palazzi, cose, insomma, ci hanno fatto anche un servizio, la televisione Burtina Bella, intervistati, questa è una gente che sta veramente facendo un salto per il nostro paese, allora la cosa mi ha interessato, mi sono fatto dare il nome dei paesi da dove partivano tutti questi braccianti, sono andato lì e sono andato a vedere, e quel punto di vista era completamente opposto, cioè quelli che qui la stampa aveva ribattizzato come i nuovi schiavi, lì erano nuovi eroi, nuovi eroi perché avevano portato nei villaggi, nelle campagne il cemento, io dico quando uno fa sto mestiere deve sempre fare l'avvocato del diavolo, nel senso un po', soprattutto quando uno fa delle inchieste, perché mi metto sempre nel punto di vista dell'avvocato del diavolo, cioè come se fosse un magistrato che se non avevano la prova, non ci credo, però ad esempio sulla Libia, il primo esempio, il primo che mi lo raccontò mi sembrava una cosa esagerata, questo racconto dei camion che li mettevano dentro i container, 100-200 persone chiusi in un container, poi col camion li trasportavano nel deserto, li facevano espulsione nel deserto, da un campo all'altro, parvolati nel deserto, non ci credevo, questo è esagerato, sta esagerando, poi il secondo, il terzo, il quarto, il quarto, il quarto raccontano 20 persone che non si conoscono, hanno fatto il viaggio in condizioni diverse, senza mai incontrarsi sul viaggio, comincia a pensare che c'è per via sotto, no? E il fatto che tutte le stimolazioni ritornano sullo stesso punto ti permette di utilizzarle. Poi però c'è bisogno comunque di fare un passo oltre, perché questo è un primo lavoro, questo va del lavoro, cioè di vedere le cose a distanza, però poi secondo me, quello che dicevo anche prima, cioè il viaggio, l'esperienza, cioè l'andare lì a vedere con i tuoi occhi, comunque è fondamentale. Ad esempio in quel caso sulla Libia scopri appunto questo paese che visto da qua sembra il paese dei lupi mannari, dei cattivi che picchiano e torturano i poveri migliori in transito in Libia, scopri che è molto più complessa la situazione, scopri ad esempio che le prime vittime sono i libici dentro le carceri libiche, scopri la fine che fanno gli oppositori, scopri la fine che hanno fatto i detenuti libici che si sono rivoltati in passato nelle carceri, in vari massacri che ci sono stati, scopri che in realtà c'è un vero problema nelle carceri ma è legato alla polizia libica, cioè a questa cultura della punizione, della tortura che fa parte della polizia, di uno stato sotto regime, un regime militare da 40 anni e queste cose le dicono i libici, parlare anche con chi magari inizialmente pensi che non c'è niente da dirti, parlare, cioè questa è un'altra cosa, comunicare il più possibile, spesso c'è gente che prende parte, va in un posto, ha in mente l'idea di quello che vuole fare su qualsiasi cosa, su Rosarno, vada a Rosarno, mi porti dietro il fotografico, poi gli dico vada fammi, portati un telo obiettivo, fai due o tre foto di qualche bracciante e coglie l'arance, poi abbiamo un'associazione che ci porta qui un ragazzo facendo tre domandine e poi andiamo con il sindaco e torniamo, tre ore è finito, di solito si lavora così e non ti rendi conto di tutto quello che c'è intorno, in realtà perdere tempo, cioè parlare, parlare con il maggior numero di persone possibile, anche con chi apparentemente non c'entra niente, che a volte per caso vengono fuori delle cose interessanti, la vera forza di chi fa questo mestiere è avere il maggior numero di informatori, ora io parlo della Liga, ad esempio si può fare per un quartiere di Modena, nel senso un maggior numero di persone con cui tu sei in contatto, che a ti segnalano se ci sono delle novità, b le chiami te se hai bisogno di sapere delle cose su quello che succede lì, in quel caso ad esempio sulla Liga, nel tornato dalla Liga, ho lasciato il numero di telefono, l'email a tutti quanti e mi è successo di di una volta essere contattato da gente che stava giù in Liga, addirittura da gente che era stata arrestata, che stava dentro le carceri e che corrompendo qualche poliziotto era riuscita a farsi lasciare il cellulare, che col cellulare mi andava messaggini, mi andavano le foto, abbiamo pubblicato sul sito delle foto di un massato che c'è stato in un carcere bibico, una rivolta dei detenuti somali sedata pesantissimamente dalla polizia che è intervenuta, manganellato, ha sparato, ha coltellato, sono stati dei morti, decine di feriti e tutto questo lo sei documentato grazie a delle foto fatte con un cellulare che qualcuno da dentro il carcero ha spedito a qualcun altro fuori, che tramite email me l'ha spedita. Ormai con la tecnologia che c'è in giro, veramente escono, spesso trovi una serie di materiali, documentazione fatta in bassissima qualità, ma da un contenuto molto molto forte. Accanto a questo, accanto a queste immagini, anche che ti documentano nuda e cruda la notizia, non è incluso prima di raccontarle, ma comunque poi la narrazione, per andare un pochino più in profondità, a volte comunque concentratevi anche su quelli che sembrano dei dettagli, delle piccole cose, delle cose che apparentemente non c'entrano niente, che però in realtà appunto a volte dicono molto di più. Penso a qualcuno prima parlava della Palestina, quando andavo in Palestina, una cosa che mi colpì, mi ricordo, in un campo profughi, in cui adesso mi sfugge il nome, dentro le case dei profughi mi colpivano le chiavi, cioè le cornici al muro con le chiavi, con le chiavi della vecchia casa che avevano lasciato e avevano chiuso a chiave la porta quando erano scappate, 50 anni prima. Cioè mi dice di più quella chiave lì che un'intervista di tre pagine al primo ministro palestinese. In generale manca proprio il racconto, la narrazione del paese.